Come mai hai due cuori spezzati? E tu chi saresti, scusami? Piacere, sono Daniel, il tuo nuovo compagno di classe. Piacere di conoscerti, se non ti dispiace non voglio parlare dei miei cuori spezzati. La matematica fa schifo, non ci capisco niente. Vuoi che ti dia una mano? Non ho bisogno del tuo aiuto. Qualcuno sa la risposta all'equazione? Dieci. Sbagliato. Sei sicura di non volere il mio aiuto? Non ci credo, ma allora anche tu ridi. A volte mi capita. Comunque forse hai ragione, ho bisogno del tuo aiuto. Hai fatto i compiti per oggi? Di quale compiti stai parlando? Lo sapevo, sei un disastro e sempre lo sarai. Tieni. Lo sapevo, sei fantastica e sempre lo sarai. Vice, hai perso, come sempre. Sei tu che hai barato come sempre. Perché mi fissi? No, non ti stavo guardando, mi sono incantata. Eccoti finalmente, ti presento Giulia, la mia ragazza. La tua ragazza? Eccoti finalmente, ti presento Giulia, la mia ragazza. La tua ragazza? Aspetta, dove vai? Ancora problemi con la matematica? Dai, chi ti... Ma quanto parli? Volevo solo aiutarti, ma immagino tu non voglia. No, e sei pregato di non rivolgermi più la parola. Hai visto come sei truccata la prof di storia? Sembra un pagliaccio. Finalmente mi fai un sorriso, mi sei mancata, sai? Sì, anche tu. Qual è la risposta all'equazione? 56. Esatto, brava. Bravissima, finalmente ci sei riuscita, sono fiero di te. Comunque, Kata, mi dispiace, non pensavo di piacerti. Ma no, non fa niente, tu non potevi saperlo. Mi sento in colpa, ora non potrei mai più innamorarti. Non è comunque colpa tua. Aspetta, ho un'idea, devi venire con me. Dove vuoi andare? Lo scoprirei presto, fidati di me. Visto che non puoi più innamorarti, faremo in modo che torni ad essere possibile. Come pensi di farlo? Semplice, infrangendo le regole. L'unica regola che c'è è che non posso più innamorarmi. Infatti ti farò innamorare di nuovo di me. A parte che è impossibile, ma poi ti ricordo che tu sei fidanzato con Giulia. Ci siamo lasciati, ho capito chi voglio veramente. Chi? Te, forza, andiamo. Ti ho mai detto che sei bellissima quando ridi? Le conquisti tutte così, non è vero? Forse, ha funzionato? No, non direi. Ti porto a cena fuori, vuoi mangiare sushi? Non mi piace il sushi. Ti ho messo alla prova, neanche a me piace. Allora direi di andare a prendere la pizza. La smetti di farmi foto? Assolutamente no, colleziono ricordi. Allora, ti sei divertita questa sera? Sì, direi di sì, ma mi dispiace, non ha funzionato. Non ha funzionato perché manca l'ultima cosa. Cosa manca? Il bacio della buonanotte, posso? Oh mio Dio, ha funzionato! Non ci posso credere. Te l'avevo detto. Questo è tutto.